Buongiorno a tutti, sono Antonio Luca Torricelli, sono il delivery manager della Livebringer.inc Sono qui oggi a Bitovisteri perché abbiamo presentato quello che è il nostro servizio Livebringer unico al mondo, non ha uguali, il nostro ecosistema è nato per la sicurezza della persona e quindi protegge la persona 24 ore su 24 sempre senza fermarsi mai. Il progetto e il processo che gestisce tutto questo è dovuto alla nostra intelligenza artificiale quindi ai nostri algoritmi che sono stati inventati e brevettati e che oggi gestiscono tutto quanto il processo. Il progetto è gestito da un wearable device che potete vedere qua, questa è la parte che recupera tutte quelle informazioni che i sensori riescono a rilevare, quindi il battito cardiaco, la temperatura corporea, la nostra inclinazione, l'accelerazione, la decelerazione, quindi tutti quei parametri che possono essere di importanza per la nostra intelligenza artificiale la quale una volta che ha raccolto tutti questi dati verifica se a questo c'è qualche caso noto per il quale deve far scaturire un allarme oppure no, se no elimina tutti i falsi positivi nel momento in cui rileva un reale allarme fa partire la centrale operativa che è una centrale naturalmente fatta di persone che lavorano 24 ore su 24 su tutto il territorio mondiale, oggi copriamo circa un centinaio di paesi, su quale può intervenire e l'unica certificata per poter chiamare qualsiasi tipo di soccorso, quindi dall'ambulanza ai vigili del fuoco ai carabinieri quindi praticamente il servizio è completo, è un servizio end to end, è un servizio che copre tutte le esigenze è un servizio che può essere gestito da qualsiasi tipo di persona in completa autonomia cioè la persona non deve fare assolutamente nulla, deve indossare il nostro device, far partire la nostra applicazione dopodiché lui è protetto in qualsiasi caso. Grazie